Morgan è stato ospite oggi di Oggi è un altro giorno, il programma che è venuta su Rai 1 e pensate che vi ricordo proprio il grande Morgan, fa parte del cast di Ballando con le stere, Tana di Emile Carlucci e ha parlato, diciamo così, delle polemiche avute con Selvaggia Lucarelli di recente. Con la sua insegnante Alessandra Tripoli si palesa da Serena Bortoni, Morgan fa parte del bando con le stelle, dove avrebbe avuto, vi ricordo, un bacchibecco di recente con Selvaggia. A proposito di Selvaggia avrebbe detto, ella sta facendo il diavolo a quattro e io non voglio dire niente perché lei non è qui. Trovo sgradevole il fatto che siamo in un ambiente in cui si fa musica e ballo al tempo stesso, si parla invece di altro, di qualcos'altro. Ho accettato io stesso di mettermi in gioco con dei giurati che parlassero di quello che io facevo. Per dieci anni ho fatto il giurato X Factor, c'era una falla di base, lei non era una persona indicata, è un altro ambito. Lo dico nella mia piena umiltà, la materia è precisa, è come sempre in latino o meno. Ella non ha competenze di ordine artistico e di preparazione. Per me è imbarassante vedere la sua in preparazione, non è in grado. Voi non potete mettermi in contrasto con Selvaggia Luccarelli perché non c'è partita. Mi costringe a dovermi abbassare a un linguaggio che non mi appartiene. Così avrebbe detto Morgan, l'ex leader dei Blue Vertigo. E poi ha mandato però un messaggio diretto a Selvaggia Luccarelli, ok? Che però non sto qui a dire. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Questo video non vuole lettere la previsi di Selvaggia Luccarelli e di Morgan, ma solo informare eventuali persone di ciò che avrebbe detto Morgan a oggi e un altro giorno, 15 novembre 2021 oggi. Ciao a tutti da Leandro e al prossimo video.